Facci due risate, adesso abbiamo visto quell'episodio, andiamo un attimo più a nord, andiamo da Alfonsine, siamo nel campionato di eccellenza dove ieri il Misano ha perso per 3-1 e se non sbaglio sul 2-1 c'è stato un episodio, adesso qui riviviamo velocemente un po' tutta la partita, c'è stato il gol del vantaggio che è stato segnato da Antonio Marino, eccolo qua, forse con la complicità anche di una deviazione. Sì, ringraziamo tra l'altro Enrico Sibone, l'ufficio stampa del Misano che ci ha fornito queste immagini, poi dopo c'è stato il pareggio dei padroni di casa con Callegari, c'è stato un mezzo infortunio difensivo del portiere, qui lo possiamo tranquillamente affermare, poi dopo c'è stato un euro-gole, qui tanto di cappello perché questo è un grande gol di Innocenti, sì, il portiere un po' fuori dai pali c'è, però Innocenti l'ha visto che era fuori dai pali, chiamano un po' fuori dai pali, sì forse era fuori provincia, e poi dopo c'è stato il sigillo finale dell'ex Ravenna Ciuffetelli con un colpo di testa che insomma ha ribadito il risultato sul 3-1 per l'Alfonsino, ma qui c'è l'episodio sul 2-1 di questo rigore, è venuta giù la tribuna, il rigore è stato accordato e forse qua c'erano gli estremi anche del cartellino rosso, invece è stato giallo, Marino, guardatelo, è un po' perplesso in maniera elegante, anche se in primi si lamentano, ma insomma c'è questo rigore che poi viene calciato sul legno da Antonio Marino, proprio incredibile, e poi alla fine c'è il 3-1 di Ciuffetelli, insomma Giuseppe valla a raccontare, è andata come è andata No, sicuramente l'errore dal dischetto di Marino poteva rimettere in sesto la partita, c'era il rigore del 2-2 praticamente, quindi la partita poteva cambiare assolutamente sull'episodio del rigore, questo qui è nettamente più netto rispetto al rigore di Cattolico Ecco, però voglio chiedere adesso a Zannoni, poi magari abbiamo anche il replay, tu che sei stato un portiere, allena i portieri, qui ci può stare il rosso? Secondo regolamento lì ci può stare, anche se per me è giusto, perché una volta che uno concede il rigore basta l'ammunizione del portiere Qui viene azzoppato proprio, secondo regolamento è rigore espulsione, però io dico che quando c'è il rigore l'espulsione del portiere mi sembra sempre esagerata Da punta questo discorso non lo digerisco molto, cosa vuol dire? Mi sembra esagerata Però in questo caso Ivan, vedi Marino è da solo, è da solo, sta saltando il portiere, il portiere lo atterra e quindi questo qui da regolamento Lo abbatte, non lo atterra No, no, con l'espulsione Mi sembra proprio quasi intenzionale E' più evidente questo che quello del cattolico No, quello del cattolico che cos'era? Era una carezza rispetto Hai capito? Seconda parte di Overtime del lunedì, siamo in diretta, vi rinnovo a spedire come state facendo compiusamente i vostri sms E poi per i più tecnologici alfabetizzati a livello informatico abbiamo anche la nostra pagina di Facebook E quindi andatela a cercare Overtime Icaro Sport Così proprio in diretta possiamo quasi chattare Siamo già sull'eccellenza, eccellenza Misano, addio sogni, è un po' questo l'interrogativo Qualcuno ci scrive Allora intanto per quanto riguarda il Misano Qualcuno diceva che il Misano fa molto possesso palla e poca concretezza A prima vista potrebbe essere così perché in effetti il possesso palla ne fanno molti i giocatori del Misano Perché hanno uno schema di gioco ben collaudato Alla catalana Alla catalana come dici te Quello che lo fa ingressare Però in ogni caso i punti sono quelli che contano La classifica è buona, si vede che questo possesso di palla fa risultato L'arbitro ad Alfonsina è come a Cattolica, ha condizionato la partita, ci scrivono Poi qualcuno ci chiede di parlare dei ragazzi, dei giovani e del Misano Lo stiamo facendo in continuazione, mi sembra di poterlo tranquillamente affermare E poi spero che la trasmissione dure di più e vorrei che trasmettesse da Tavuglia Con uno studio nuovo e con il pubblico Jack, tocca andare a Tavuglia Salutiamo Jack, è tutta Tavuglia Adesso magari ci attrezziamo Ma dopo ci sono quelli del Rimini, della Serie C Insomma anche loro devono avere il loro spazio Forza Cattolica si vince perché a Cattolica sia una grande squadra ed una grande società Sottoscriviamo, naturalmente noi facciamo il nostro mestiere Ma che il Cattolica abbia una buona squadra, anche una buona società Questo ormai lo abbiamo detto a gran voce più di una volta Poi Cattolica Valanga, grande società San Maurese e Luga saranno capaci di restarle addosso per tutta la stagione Questo è il pronostico di inizio stagione Secondo me andrà così fino alla fine Quelle tre lì più il Borghi forse se la giocheranno Cattolica, Lugo, San Maurese e Borghi Ormai penso che la griglia lì per l'eccellenza sia stata un po' delineata Allora, poi Ottavio, ieri i supporters ci hanno creduto fino al novantatresimo minuto E anche Ottavio evidentemente Poi con il Teramo vogliamo tutto lo stadio bianco-blu Zannoni, com'era meglio se il Rimini pareggiava? Certe cose, vale dire al bianco-nero no No, a me quella trasmissione non ci interessa Da noi ce lo teniamo stretto qua Allora, vergognati Andrea da San Termete Ma che vergognati Andrea, dai, va là Poi, ciao, sono Andrea di San Termete San Termete, buon pari del San Termete in casa del Torconca Adesso non siamo più penultimi Grandi ragazzi Poi Savini, che emozioni hai fatto esplodere il comunale E tantissimi altri SMS Allora, eccellenza, siamo all'eccellenza E qui sono dallo specialista del bianco Ci dicono che parliamo poco di eccellenza Qui c'è la classifica Vediamo un po' di commentarla assieme Anche qui, Francesco, come nel campionato di promozione Non c'è una squadra in fuga Ci sono diverse squadre raccolte nell'arco di pochi punti Ci aveva provato il Romagna Centro a partire Ad andare in fuga all'inizio del campionato Possiamo vedere Alfonsine, Savignanese, Sant'Antonio, Romagna Centro Ma ricordiamo che c'è l'Imolese a 23 punti Si apre il mercato, ci saranno parecchie novità in casa imolese Ma molti sembra che vengano tagliati Però arrivano, arrivano anche altri giocatori Sì, sì, di sicuro Giale e Valizio pronte, Gardenghi, dicono? Dicono, allora, Gardenghi e Daniello Il difensore centrale Però arriva un altro difensore centrale Che viene, mi sembra, dal Veneto Non ricordo il nome E poi Forse anche Maiorano, probabilmente Potrebbe essere Però, ripeto Adesso noi facciamo questi nomi Ma fino all'ultimo Magari possiamo essere smentiti Anche in Italia Non si sanno fino all'ultimo neanche i viceministri Sì, infatti anche il Romagna Centro Per dire, ha tagliato alcuni giocatori I giocatori, quantomeno sono andati via Brandino, Mosconi Biserna Eccetera Però, direi Potrebbe partire dal Sant'Antonio Cataldi Che è un pezzo da 90 Un giocatore veramente importante Potrebbe approdare a Dimola Queste sono le voci Le ultime news Esatto Come potrebbe Ad esempio Adesso parlavamo prima del Verucchio e del Torconca Ronchi del Verucchio Potrebbe approdare al Torconca Ah, queste sono le ultime news Torconca che ha cambiato allenatore a Ratari Sì, nel Chiametto non c'è più il vecchio allenatore